Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Oh, cute bikini. Zio, ma sei pazzo? Clippate questa roba per favore, clippate questo urlo, mi serve. Zio mi sono spaventata. Non clippi questo urlo, per favore, vi prego. Oh, prendi sto... Oh. Un attimo... No, a sparare, eh? Vedo se... Aspetta, non spavano, sto vedendo un attimo... Live... Vediamo che c'è... Ma non c'è nessuno... Bambani... Sì? Ok, ok. Io? Capito! Come dire, facciamo un disegno di colore giallo. Di che colore? Va bene. È verde. Così. Sì, Vez, però non è, ti vedono. Di striscia. Come il fiorellino sulla schiena. Il Neymar Rega, guardalo. Vez, vedi che io ho il Neymar diverso. Capo! Eh? Eh! È questo qua, Tittino? È che... Ah! È questo è Grande Supremo coso? Grande Supremo che? Questa è una promessa. Questa è una promessa. Fino a settembre, qualsiasi nome, vicino, anche associato a lui, verrà permabannato ovunque. Il Neymar Rega, guardalo. Sì, ma... Il Neymar Rega contro il BDL e Zandra. Vez, vedi che io ho il Neymar diverso. Su! 100 parantà! Con atto! Fatto! Godo! Godo! Prequisisci tutto, prequisisci tutto. Prequisisci tutto. I placement con le percentuali non li voglio fare. Ne avrò uno con Philips. Io non volevo accettare, però mi serviva il prodotto in realtà. Ragazzi hanno 114 punti, ragazzi. Conso può farcela. Vi dirò una volta. Ragazzi, se volete comprare questa cosa, appunto. Fine. Sono sotto di... 20 punti. Basta. Non lo dirò mai più, poi. Ma questo game potrebbe aiutarli tanto. Lo dirò anche a bassa voce... Male. Con il microfono mezzo mutato. Forse è il per ultimo game. Non sappiamo, non sappiamo. Non mi piace fare i placement dove spammo tutto il tempo. Comprate, comprate, comprate. Questo pure... Pure si sentiva scattiato questo. Qua non mi costruisce. Ovviamente. Io gli faccio solo 30, tipo. 40. Ma non mi costruiva più il muro. No, hanno una voce materiali, tra l'altro. Zero materiali. Mezzo, che solide quale... Ha uno di vita. Ciao. Nove trio. Ce ne sono veramente un sacco. Money time! Here comes the money! Money, 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 money. Jala, jala, yo! Jala, jala! Chin, chin, blin, blin, sake, jala! Sick from the money and the fucking song, jala! Chin, chin, blin, blin, can't stop it! E sic che jala, jala, che la sei frustrate! Ricky! Dieci mila patatine. Ricky, ma sta sotto l'idea. Ma lei non può! Here comes the money, 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 here comes the money. Ma lei non può farlo! Lei non può farlo! Comincio ad avere una certa età, Ricky! Comincio ad avere i primi... Wajai, am, wajai! Mi fa saltare il cuore! Oi, mamma! Sai perché? Me batte il corasson! Enrici ha fatto il pazzo! Enrici ha fatto il pazzo! Oi, mamma! E' innamorato son! Ma puoi prendi, ma puoi prendi, ma puoi prendi! Tira fuori quelli noncini di cocco! Tira fuori quelli noncini di cocco! Bravissimo! Basta avere il sorgis, basta non dover pensare a quello, niente, c'è il mio vicino che mi urla dentro casa, addio cane! Loro, tu hai la fiocciano, vero? Sì! Oh, mini! Oh, sei mini! Ma porca puttana! Bannato il mio trio! Che cazzo dici? Non lo sapeva, poverino! Ma porca puttana! Bann, 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 bann! E niente, trovato Ark! 89 punti, ci guardiamo al volo lo start di Ark! Le missioni! Lugier era contestato? Sì, vabbè! Lugier era contestato sì, grazie mille, ma pico per la sub! Non so come... Qua! Qua dove? Nella cucina! Guardava la mia stream e ha visto dove stavo! Cioè, a sinistra! Io non ci sto a credere, cioè, tu dovresti vedere capolino dove stavo! Questo qua è il Godo che sei morto, coglione! Vattela a rigiocare! Comprati un cazzo di dildo e te lo ficchi su per il culo! E perché che palle, eh! Cioè, mio Dio, che vita di merda dovete avere! Che vita di merda avete! Veramente schifosa, lurida, vomitosa! Per passare la vostra giornata a guardare persone e a rompervi le palle! Ma godetevi la vostra giornata! La vostra vita! Fatevi la partita con gli amichetti! E non cagate il cazzo! Cioè, il vostro divertimento è farvi insultare! Andare in giro a rovinare la partita degli altri! A cagare il cazzo agli altri! E farvi insultare! Farvi magari anche bannare! Non vi guardate più la stream che vi stavate guardando! Cioè, volete stream sniperare? Fatelo! Portateci lo scaroro! E du cazzo di pozzette! Che palle! Tu, tu, come, stai a dì? Tu che poi non hai visto? Io stavo... Ho c'ho dietro, ho c'ho dietro, ho c'ho dietro! Ma anche me! Ma che cazzo è? 5, 10, 15, 20! Fa quello di andare! Ardi, ardi, stai ed! Ardi, stai ed! Non ardo, non ardo! Nien' anch'io, nien' anch'io, nien' anch'io! Troppate, guarda, 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 guarda! Passiamo solo le build back, per forza! Loro sono droppati! Ho droppato, ho droppato, ho droppato loro! Non ho riflesso! Mini, 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 mini! Pochissimi ardo! Cioè, vado, vado antio, vado antio! Hai bisogno di mini, baffo? Sì, vieni! Tieni, tieni! Tu, medici, parteci, mechi! Alle cose! Questo è di maggio, eh! Cioè, raga, 6 maggio, cioè, 10 giorni fa, 13 maggio, 4 giorni fa, 14 maggio, 3 giorni fa! Quindi questo qui è un Discord d'oro! Ok, ripeto, a breve avrò bannato da qua dentro, perché qualcuno qua dentro dirà Cazzo, piazza, beccato il Discord, muori tutti dai coglioni! Quindi mi banneranno, ma la cosa importante è che io ho tutti i screen, tutte le persone che sono dentro E tutti quelli che sono offline, quindi non è... Andrò... Andrò col fiume E di intercetto Ti dirò... Oggi, Lari? Sono... Rackings e bluesy Sono fermi più sul fieno, quindi dirò che devi venire qua Oh, mio Dio!